Quello che sta succedendo qui lo raccontano questi sacchi. Considerate che siamo nel centro di Leopoli, città patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO e ci si prepara a quello che potrà accadere anche qui. Perché fino a poche ore fa pensavamo di essere in una zona sicura, la più sicura. In Ucraina siamo a ridosso del confine con la Polonia, qui ci sono tutte le ambasciate, anche la nostra. Pensavamo di essere in relativa sicurezza. Da questa mattina all'alba sappiamo che non è più così, sono arrivati gli attacchi a due città proprio qui vicino. Una è Lusk ed è stata colpita nell'aeroporto intorno alle 6 del mattino. Dopo quattro giorni in cui a Leopoli non c'erano allarmi antiaerei, noi ci siamo svegliati con le sirene alle 4 e mezzo. Siamo andati nei bunker sotterranei del nostro albergo. Alle 5 un altro attacco, un altro allarme scusate, alle 10 un altro allarme ancora che ha fatto chiudere qui i negozi del centro. Insomma la tensione è salita anche a Ivano Franchische che è un'altra città con Lusk, sono distanti 100 chilometri proprio da Leopoli. Attaccano sulla fronte occidentale su quello che è una sorta di corridoio per i profughi che vanno in particolare verso la Polonia. Questo ha fatto crescere la tensione moltissimo anche in questa città. Nei giorni scorsi, nonostante non ci fossero allarmi, il Ministero della Difesa aveva chiesto di fare ulteriore sorveglianza perché temevano dei sabotaggi da parte dei russi. Oggi sono arrivati questi attacchi e quindi nella parte occidentale a questo punto la tensione sarà massima. Abbiamo visto sempre più militari questa mattina in giro anche in centro, questa città che tenta in qualche maniera di vivere la sua normalità sospesa. Vi abbiamo fatto vedere i sacchi a ridosso di un edificio, poi questo è il prospetto di una chiesa, lo stanno proteggendo in qualche maniera. Abbiamo visto che hanno montato qui vicino anche delle lastre di metallo proprio per proteggere il patrimonio artistico importantissimo di questa città. E poi c'è la vita che scorre comunque. Qui siamo vicini a dei bar che sono quasi sempre pieni, si ascolta la musica, la gente li frequenta e ogni volta che arriva la sirena, come è capitato oggi intorno alle 11, si va nei bunker. Questa è davvero la strana normalità, una normalità sospesa qui a Leopoli, una città che certo rispetto ai giorni scorsi adesso si sente molto molto meno sicuro. Grazie, grazie davvero Giuseppe Laveni.